Una vasta operazione antidroga che sta interessando varie regioni d'Italia è in atto da parte dei carabinieri che la notte scorsa hanno attratto in arresto 36 persone in diverse province. Degli arrestati la maggior parte sarebbero magrebini, le ordinanze di custodia in carcere sono state disposte dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'indagine complessa è stata avviata da vari mesi dopo l'arresto di 5 persone. Con questa operazione antidroga, alla quale hanno preso parte 150 carabinieri in varie regioni d'Italia, è stato bloccato un ingente flusso di droga che aveva il terminale proprio nella provincia di Perugia. Nel corso della mattinata si è tenuta una conferenza stampa durante la quale sono stati illustrati i particolari di questa complessa e articolata indagine per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della compagnia di Todi e che ha portato in totale all'emissione di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere.